In occasione del 159esimo anniversario dell'Unità d'Italia, il Premier Conte ha lanciato un Lo Stato non è solo strutture e istituzioni, ha detto il Presidente del Consiglio. Lo Stato siamo noi, 60 milioni di cittadini che lottano insieme con forza e coraggio per sconfiggere il nemico invisibile del coronavirus. Mai come adesso, dice il Premier, l'Italia ha bisogno di essere unita. Sventoliamo orgogliosi il nostro tricolore, intoniamo fieri il nostro inno nazionale, uniti, responsabili e coraggiosi. Conte esprime anche riconoscimento e gratitudine ai cittadini che stanno attraversando questa fase difficile e danno il loro contributo, infermieri, medici, vigili del fuoco, protezione civile, forze dell'ordine ed esercito. Ringrazio i farmacisti, chi continua a lavorare in fabbrica, chi lavora nei supermercati e tutti quei tassisti che accompagnano i medici gratuitamente in ospedale e a chi, con il proprio comportamento, rispetta le regole. In questi 159 anni il nostro paese ha affrontato mille difficoltà, ma con orgoglio e determinazione ha sempre saputo rialzarsi e ripartire a testa alta. Il sindaco di Roma, Virginia Raggi, ha deciso di adottare il pugno duro per chi non vuole stare proprio alle regole. Nel corso di una diretta su Facebook si è detta arrabbiata perché ci sono persone che ancora sottovalutano il divieto di uscire di casa, se non per i motivi stabiliti dalla legge. Questo accade soprattutto nel quinto municipio, che comprende le zone popolose di Torpignattara, Quadraro, Gordiani, Centocelle, Tortretteste. Per questo motivo ha stabilito blocchi stradali, soprattutto in quelle zone, per evitare assembramenti o spostamenti non autorizzati. Il sindaco ha aggiunto che preferirebbe che i suoi uomini le dicessero che non hanno trovato nessuno per strada, piuttosto che rimpinguare le casse del comune con le multe. Grande gesto di generosità da parte di Silvio Berlusconi, che ha donato 10 milioni di euro a Regione Lombardia per affrontare l'emergenza coronavirus. A riferirlo una nota di Forza Italia che spiega, Silvio Berlusconi ha deciso di mettere a disposizione della Regione Lombardia, tramite una donazione, la somma di 10 milioni di euro necessaria per la realizzazione del reparto di 400 posti di terapia intensiva alla Fiera di Milano o eventualmente per altre emergenze. Dopo Forza aver sottovalutato il problema coronavirus, crescono le restrizioni e le preoccupazioni anche nella Gran Bretagna per favorire il distanziamento sociale contro la diffusione del Covid-19. Ad annunciarlo il premier Boris Johnson durante una conferenza stampa, indicando una svolta rispetto alla sua linea. Stop di tutti i viaggi non necessari, lavoro da casa per chiunque possa e la rinuncia a contatti sociali pubblici. Da ora dovrete evitare pub, teatri, club e altri luoghi di ritrovo.